A tutti voi buona giornata e bentrovati a questa nuova puntata in diretta di A Voi la linea. Anche oggi diversi collegamenti dal territorio. Andremo in questura a Udine dove si trova per noi Paola Treppo perché vi daremo aggiornamenti per quanto riguarda l'arresto di un 24enne cittadino afgano che è accusato di aver ceduto l'eroina gialla alla sedicenne trovata senza vita in un bagno della stazione ferroviaria di Udine. Poi ci collegheremo in diretta anche con San Giorgio della Richinvelda dove si trova per noi Daniele Micheluz. Lo vedete con tanti ospiti, ci racconteranno di un importante progetto che riguarda il territorio, diversi comuni del territorio. Ma direi di cominciare subito dando la linea a Paola Treppo quindi andiamo in questura a Udine per avere ulteriori informazioni a proposito di questo arresto. Dopo ricordiamo la morte della sedicenne che risale al 3 ottobre. Buongiorno Paola Buongiorno Alessandra, buongiorno telespettatori di Telefriuli. Siamo con il vicequestore Massimiliano Ortolan, comandante della squadra mobile della questura di Udine che tra l'altro è stato il primo, insomma, con i suoi uomini a intervenire nella stazione ferroviaria a seguito del decesso di questa povera adolescente vicequestore. un importante risultato tra l'altro conseguito anche nell'arco di poche settimane. Non era facile? Assolutamente, però il fatto aveva colpito non solo in qualità di poliziotti ma anche in qualità di uomini e donne della polizia. E quindi è stato minuzioso il lavoro che è stato compiuto con il coordinamento della procura di Udine e che ha permesso appunto di identificare questo soggetto che aveva ceduto lo stupefacente. Si tratta appunto di questo 24enne cittadino afgano regolare sul territorio nazionale in quanto richiedente asilo che aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria il quale, controllato sempre in zona Borgostazione, si era già distinto nel 2016 con una prima denuncia per spazio di sostanze stupefacenti. Tuttavia nel 2018 compare in zona Borgostazione, quindi non solamente l'ascice e la marijuana, ma anche la cocaina e l'eroina e in particolare questo tipo di eroina cosiddetta gialla che effettivamente è un'eroina mortale. Le verifiche che sono state fatte di laboratorio sull'eroina che è stata sequestrata al ragazzo che era con Alice ha permesso di appurare che c'era circa più del 50% di principio attivo all'interno di quanto era rimasto. Questo per far capire quanto potente è questa droga. Ecco, questo cittadino straniero che voi avete arrestato nel pomeriggio di ieri è portato in carcere a Udine. L'indagine è stata coordinata, ricordiamolo, dalla Procura della Repubblica di Udine. Tra l'altro era stato già fermato all'inizio di dicembre. Sì, quando è stato individuato anche tramite l'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, nonché anche dei precedenti contatti che i ragazzi avevano avuto con lui, perché non era la prima volta che cedeva lo stupefacente alla coppia, effettivamente è stato monitorato. Il 3 dicembre, in occasione di un suo viaggio, presumibilmente nel Veneto, e quindi di rientro da questo, viene fermato in stazione a Udine assieme ad un altro connazionale. Alla vista dei poliziotti, l'uno passa un pacchettino di droga all'altro, quest'altro tenta di liberarsene, viene recuperato, ci sono circa 9 grammi di eroina, entrambi i soggetti vengono arrestati. A seguito della convalida dell'arresto, entrambi ricevono come misura cautelare quello del divieto di dimora da Udine. Ma, arrivata appunto questa ordinanza di questo cautelare in carcere, è ricercato nelle zone che particolarmente frequentava, quale Borgo Stazione, ieri è stato rintracciato proprio in questo luogo, in palese violazione anche di questo precedente provvedimento cautelare. Ha posto resistenza? Come si è comportato alla vista delle divise della Polizia di Stato? No, assolutamente non ha posto alcuna resistenza, sostenendo sostanzialmente di non essere lui l'autore di questa cessione mortale. Ecco, va detto che è in fase di analisi la sostanza stupefacente che è stata sequestrata in quella occasione, quindi a inizio dicembre, per capire se si tratti appunto anche in questo caso della micidiale eroina cocaina o eroina gialla. Eroina gialla che abbiamo visto che anche in Veneto effettivamente ha ammietuto diverse vittime, tra i giovani soprattutto. Quindi, insomma, possiamo dire che probabilmente questo tipo di sostanza stupefacente così devastante arriva da questa regione. Sì, più di qualche elemento, insomma, collega questa cessione e sostanzialmente poi altre cessioni che sono state registrate in questo periodo al vicino Veneto e di lì, insomma, sostanzialmente la base che peraltro era già stata individuata nei primi mesi del 2018 nell'ambito di attività, insomma, di altri uffici veneti. Ecco, invece in questa indagine svolta dalla squadra mobile della Questura di Udine è stata fondamentale non solamente la visione dei nastri della videosorveglianza della città e l'analisi dei tabulati dei giovani ma soprattutto la collaborazione e l'aiuto attraverso le testimonianze dato dai coetanei, dagli amici di questa ragazza e del suo fidanzatino. Sì, perché l'analisi delle telecamere, insomma, ci ha permesso sostanzialmente di regolare tutti i passaggi che sono stati effettuati dai ragazzi in città dal momento in cui la ragazza esce da scuola e viene accompagnata dal ragazzo, insomma, in zona di Borgostazione ma poi, diciamo, le abitudini e sostanzialmente quanto i ragazzi anche utilizzavano lo stupefacente c'è stato appunto descritto anche dai coetanei i quali sostanzialmente sostenevano e sapevano che i due ragazzi utilizzavano abitualmente anche questo tipo di sostanza. Ecco, dottor Ortolan, giustamente, lei ha detto che è stato un caso che ha toccato naturalmente tutti noi al di là delle nostre professioni siete riusciti a mettervi in contatto con, in queste ore, con i parenti con i genitori della sedicenne di Palmanova? Non ancora, insomma, lo faremo prossimamente anche per capire se ci sono, diciamo, degli altri elementi che andranno valutati certamente non ci fermiamo, insomma, a questo risultato ma l'obiettivo è quello anche, insomma, di scardinare quello che è lo spaccio che avviene nella zona, insomma, di Borgostazione perché non è certamente lui l'unico personaggio che si aggira, insomma, in zona e che spaccia, insomma, queste droghe mortali. Ecco, quindi l'indagine non è finita e non si ferma. L'attenzione e l'intervento della Polizia di Stato, che ricordiamo, è sempre attiva in Borgostazione con le volanti e con la squadra mobile. Io, Alessandra, ti restituisco la linea qui della Questura di Udine. Grazie, grazie a Paola Treppo. Allora noi siamo pronti subito a collegarci con San Giorgio della Richinvelda. La linea va a Daniele Micheluzzi. Buongiorno, Daniele. Sì, buongiorno, Alessandra. Argomenti decisamente più leggeri qui a San Giorgio della Richinvelda nella sede di Friulov e Sbanca perché oggi è stato ultimato quello che è il primo step di un grande progetto si può dare di più, che ha chiamato in causa i cittadini del territorio. Questo primo progetto è un recupero di valorizzazione culturale che è stato fatto alle stands di Sequals. Siamo con il sindaco Enrico Odorico e ci facciamo raccontare direttamente da lui che cosa ha riguardo questo progetto. Allora, innanzitutto un'opera particolare, dove il respiro del Pordenone si confonde con la mano estremamente abile di Amalteo Pomponio. Un'opera che è molto conosciuta, forse anche di più all'estero che non qui nelle nostre zone. Ecco, un progetto come tale, diciamo così, era nel desiderio di tutti poterlo restaurare in modo adeguato, in modo definitivo. È un'opera importante, molto importante dal punto di vista anche economico. Penso che il costo si aggirerà probabilmente sui 90 mila euro più o meno. E però qui c'è un fatto nuovo, una forma di cooperazione, di joint effort, come direbbero gli inglesi, ecco, tra la comunità, come tale, e quelle associazioni, quelle organizzazioni, quegli enti che naturalmente ci circondano. Ecco, spieghiamo come è funzionato. Attraverso una cartolina la comunità locale ha messo dei soldi e la banca ci ha aggiunto qualcosa. Ecco, questo è il miracolo. Cioè, la gente ha capito che questa è un'opera importante, si è subito messa a disposizione, e naturalmente la banca, anche, diciamo, attratta da questo sistema, in cui la banca dice, ok, metti tu che poi metto anch'io. Ecco, e quindi quanti soldi avete raccolto? Ma penso che oggi siano circa più o meno oltre 60 mila euro. Ne mancano ancora, ma abbiamo ancora un qualche mese di tempo per poter raggiungere l'obiettivo. Il restauro poi si farà l'anno prossimo? Il restauro dovrebbe essere completato probabilmente dentro l'agoto dell'anno prossimo. Quindi, ed è un'opera, ripeto, eccezionale. Ecco, siete rimasti meravigliati da vedere tanto affetto da parte della comunità locale. Siamo meravigliati, ma siamo anche molto contenti che si recepiscono questi valori in questo modo. Un'idea nata proprio dalla Free Loves Bank, a cui abbiamo il presidente, Lino Mian. Insomma, come vi è venuta questa idea e poi è veramente stato un successo? Sì, è sicuramente un successo. È una delle tante idee che abbiamo per sostenere il territorio, ma soprattutto per sostenere quelle operazioni che mantengono le opere che abbiamo sul territorio, che sono dei simboli di quello che siamo, simboli della nostra storia. E noi ci teniamo a questa collaborazione con le comunità, proprio perché bisogna trasmettere dei messaggi. Quel tenere da conto le cose di valore che abbiamo, soprattutto perché sono la cinghia di trasmissione per capire quali sono le nostre origini, la nostra storia e i valori che vogliamo trasmettere soprattutto ai nostri giovani. Allora, grazie. Intanto vi dico solo che questo sistema di cartoline ha funzionato talmente tanto bene che ci sono già in piedi altri tre progetti. Le raccontiamo più tardi. Intanto vi ridiamo la linea. Grazie a Daniele Micheluz. Noi ci fermiamo per la pubblicità, pronti a tornare in diretta. A tra poco. Essere cattivi almeno a Natale. Di nuovo in diretta con a voi la linea in attesa di collegarci nuovamente con San Giorgio della Richinvelda per conoscere ulteriori dettagli del progetto che abbiamo iniziato a raccontarvi nel corso della prima parte di questa puntata. Facciamo un salto ad Aquileia per raccontarvi della Romea Strata. Vediamo il servizio. La Romea Strata è un progetto ambizioso ancora in divenire nel quale la sinergia tra provincia di Udine, Fondazione Aquileia, Comune di Schiola, Diocesi di Vicenza e il Billung South Ostirol ha consentito di ottimizzare il programma che mira a conservare e valorizzare il territorio trasfrontaliero caratterizzato dallo storico cammino di fede della Romea Strata sviluppando una strategia di promozione del patrimonio storico, religioso e culturale, comune italo-austriaco. Ne hanno parlato ieri ad Aquileia il consigliere regionale Franco Mattiussi, il direttore della Fondazione Aquileia Cristiano Tiussi e Don Raimondo, anima del progetto. Abbiamo individuato appunto nella riscoperta dei cammini religiosi un'importante opportunità di carattere turistico e non solo di riscoperta dei valori della fede. Si parla di un progetto ambizioso che continuerà a esserlo, nel senso che un mese fa abbiamo anche sottoscritto la costituzione di un'associazione europea Romea Strata, quindi c'è la volontà di intervenire e di continuare su questa strada e di arrivare ad una dimensione propriamente europea anche attraverso altri partner dei vari paesi europei toccati da queste vie, quindi diventa realmente un progetto che coinvolgerà l'Europa centrale in particolare, naturalmente l'Italia, in cui Aquileia questa volta è tra i soci fondatori. Abbiamo trovato degli ottimi partner qui in Friuli che ci hanno sostenuto fin dall'inizio, la provincia di Udine e poi la fondazione Aquileia, nel quale abbiamo realizzato anche questo progetto Interreghe che ormai volge alla conclusione. Il lavoro sta procedendo allacremente e già i pellegrini cominciano a transitare e quindi siamo molto soddisfatti di questa iniziativa che va a valorizzare da vari punti di vista paesaggistico, naturalistico, non gastronomico, religioso, chiaramente artistico, culturale, tutti i territori che chiaramente insistono sul percorso e sull'itinerario della Romea Strata. Rientriamo in studio, ma diamo subito la linea a Daniele Micheluzzi. Torniamo a San Giorgio della Ricchinvelda. A te Daniele. Sì, eccoci qua di nuovo da San Giorgio, perché allora vi dicevo ci sono altri tre progetti in piedi. Uno riguarda la chiesa di Santa Croce a Casarsa con il recupero di un affresco e l'altro riguarda invece degli orti che verranno fatti, insomma degli orti un po' particolari a San Vito al Tagliamento. Il terzo progetto riguarda Chievolis, che è una frazione di tramonti di sopra e qui con me c'è Maria Teresa Currà che è la Presidente della Società Operaia di Chievolis. Ci racconta un pochino questo progetto che avete in piedi? Allora, il nostro progetto, condiviso sia dal Sindaco che dal Parroco di Meduno, parte dalla consapevolezza che Chievolis come tante borgate della Val Tramontina si stanno spopolando. Quindi una luce in più nel borgo anche attraverso l'illuminazione del campanile vuole attirare l'attenzione proprio verso queste nostre realtà così dimenticate. E' un grido che fa Chievolis. Vogliamo essere quelli che eravamo e quelli che siamo mantenendo vive le nostre tradizioni e i nostri usi, i nostri costumi. Ringrazio vivamente ancora la Friulovest Banca per averci sostenuto in questo progetto. Quanti sono i soldi che vi servono per riuscire a dare luce a questo campanile? 15-20 mila euro circa. Quindi un appello anche alle persone cominciate a donare perché la banca ricordiamo mette metà dei soldi rispetto alle donazioni. Dicevo dell'importanza. Parliamo con il Sindaco Giacomo Urban che è il Sindaco proprio di Tramonti di Sopra. Intanto quanti abitanti ha Chievolis? Di abitanti ne ha pochi residenti. Sono un 7-8. Comunque, come dicevo, la società operaia ha 160 iscritti. Quindi la popolazione c'è e il sabato e la domenica le frazioni sono veramente polno di gente, soprattutto d'estate. Questa luce vuole essere anche un'inversione di tendenza. Bisogna riportare la luce in montagna. Tramonti di Sopra in che condizioni è oggi? Come oggi? Tramonti di Sopra, come tutta la Val Tramontina, è in una situazione così di abbandono a cui noi stiamo provvedendo e cercando di invertire la tendenza. E la luce proprio in questa a Chievolis fa sì che possa esserci un'inversione di tendenza che rimanga la popolazione in loco. Lo stiamo facendo in varie maniere. Adesso c'è un consorzio che lavora in loco e che assumerà diverse, qualche famiglia in più. Quindi il dato è positivo. Ecco la speranza che qualcuno, qualche famiglia ritorni, magari che nasca anche di nuovo qualche bambino. Esatto. Ieri ce ne sono nati, quest'anno due o tre a Tramonti di Sopra. Sotto e due o tre a Tramonti di Sopra. Speriamo che si continui così, veramente. Ecco loro in bocca al lupo anche a Tramonti di Sopra. Torno dal presidente Lino Mian per chiudere questo collegamento. La banca dà anche speranza a queste comunità aiutando questi piccoli progetti. Sicuramente, ha detto bene, è un grido che viene da una montagna che si sta spopolando, che si sta veramente spegnendo. Il simbolo del campanile che viene illuminato è sì, il simbolo di far luce su un qualcosa che si sta abbandonando, ma anche il simbolo di evidenziare quelli che sono, come dicevo prima, la nostra storia, i nostri valori e la nostra provenienza. È in un mondo costruito così com'è, credo sia molto importante. Ecco appunto quanto è importante dare una mano a territori abbandonati, di fatto, forse dovrebbero farlo più le istituzioni, ma non sempre ci riescono. Le istituzioni vivono un momento di grossa difficoltà. Sicuramente la politica può fare qualcosa, perché queste zone hanno bisogno di semplici cose, semplici azioni da mettere in campo. Immagino a una sburocratizzazione, immagino a una semplificazione di tutto quello che è l'impianto burocratico e perché no, un alleggerimento di quello che è l'impianto fiscale e quindi un alleggerimento di chi avrebbe anche voglia di vivere in posti bellissimi come questi, ma dando quei servizi che a una qualsiasi popolazione servono. Allora, intanto un piccolo segnale lo ha dato la Flores Banca con questi progetti e un grande segnale lo hanno dato i cittadini di questi territori, perché hanno veramente, nel caso di Sequals, risposto molto bene. Grazie ai sindaci, grazie al Presidente Mian per l'ospitalità, per questo collegamento da San Giorgio della Ricchia Invelda è tutto, a voi la linea. Grazie allora Daniele Micheluzzi e ai suoi ospiti, è arrivato per noi il momento di dare la linea a Marco Virgilio per le previsioni del tempo, subito dopo di noi Enzo Cataruzzi con il punto, oggi dialogherà con Ermes Canciani della FIGICI. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, arrivederci. Buongiorno, ben trovati a tutti. Ecco la cartina in vista quella che è l'evoluzione che rimarrà in vigore perlomeno fino alla domenica, ovvero sia un flusso di correnti zonali occidentali tra l'Oceano Atlantico e l'Italia e soprattutto il Nord Italia. Qui vedete un'area di alta pressione, potete intuire quindi che arriverà dell'area un po' più umite in quota con tempo tutto sommato buono anche se oggi avremo un po' più di umidità e poi ne avremo comunque di ristagno di umidità un po' nei bassi strati per effetto delle inversioni termiche proprio perché arriva dell'area più umite in quota. Allora, cominciamo a vedere oggi questa giornata di nuvolosità abbastanza densa, una giornata un po' grigia, non dappertutto, un po' meno sulle zone di montagna, qualche apertura, insomma, l'avremo, qualche banco di nebbia anche, foschie, almeno nelle ore più fredde, venti deboli, temperature che dovrebbero raggiungere gli 8 gradi circa in pianura soprattutto. Vediamo domani un po' più di sole, un po' più di sole previsto per domani con velature però d'alta quota abbastanza presenti e questi addensamenti di tipo basso parziali che saranno un po' più consistenti sull'area orientale tra le prealpi e le zone di pianura orientali, un po' meno andando verso ovest, ancora meno sulle Alpi dove a parte qualche sottile velatura non sono previsti a nuvolamenti e anzi ispireranno venti da nord-ovest abbastanza sostenuti, invece saranno deboli variabili in pianura, la temperatura cresce un pochino nei valori raggiungendo anche gli 11 gradi quindi insomma un clima relativamente mite. Vediamo pure la carta successiva. Avevo parlato nei giorni scorsi di un'assenza di precipitazioni per diversi giorni e questo continua ad essere proposto dagli scenari di lungo termine qui vedete su Natale un segnale molto debole che in realtà potete considerare nullo e poi il rialzo termico e un riallineamento su valori medi che potrebbe durare fino alla fine del mese quindi non sono in vista precipitazioni neppure per Natale e Santo Stefano e tutto sommato neanche un clima particolarmente freddo un clima che possiamo considerare nella norma dal punto di vista delle temperature vediamo allora il riepilogo domenica variabilità in montagna per nubi medie e medio alte che passano velature d'alta quota in pianura tratti anche abbastanza dense qualche foschia qualche nebbia temperature tra meno 1 e 12 gradi siamo alla vigilia di Natale con un tempo che possiamo definire discreto tra poco nuvoloso e irregolarmente nuvoloso ci saranno però degli addensamenti a tratti un po' più consistenti temperature tra 1 e 11 gradi per un Natale soleggiato almeno così per ora dalle proiezioni attuali Natale soleggiato con delle velature dovrebbero attenuarsi un po' anche le foschie le nebbie e temperature sempre comprese tra meno 2 e 11 gradi almeno scenderà un po' la temperatura in quota perché arriva dell'aria più fredda dopo il transito di un fronte che avrà effetti sul centro-sud Italia ma non sulla nostra regione come osservate poi è probabile ancora almeno qualche giorno di tempo stabile e prevalentemente soleggiato per tutti gli aggiornamenti vi invito naturalmente stasera a essere con noi con Meteo Weekend alle 19.30 e per gli aggiornamenti invece delle condizioni delle previsioni del tempo potete seguirci anche sulla pagina internet che vedete alle mie spalle in home page è tutto allora a più tardi con Meteo Weekend 19.30 arrivederci a più tardi 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 Grazie a tutti.